Atto vandali con i confronti della statua dedicata a Roberto Benigni a Manciano, frazione del comune di Castiglione Fiorentino, paese natio della Torre Regista. La vernice rossa con cui è stata imbrattata e danneggiata la statua fa subito pensare alla scena della vita è bella con il cavallo colorato con vernice verde e la scritta cavallo ebreo. Cavallo ebreo. Dai Cio, se non te la prendere, l'hanno fatto per... No, non l'hanno fatto per... l'hanno fatto per... Ti ci dovrai abituare Guido, cominceranno pure con te. Non si sa ancora quale sia la matrice di questo atto vandalico per il quale è stata presentata denuncia contro ignoti. Di certo è un atto che viene fortemente condannato dall'amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino e dall'autore di questa opera allo scultore Andrea Roggi, opera donata alla cittadinanza in occasione proprio della prima uscita del film premio Oscar nel 1999. Purtroppo nessuno si ricorda quello che è stato per noi il monumento, quali sono le vicende che ci hanno portato a realizzarlo 20 anni fa, 21 perché nel 99 è stato omesso e quindi adesso è passato tutto, la storia continua e in questo momento sembra che sia importante dimenticare tutto quello che è il nostro passato. Non posso immaginare che la vernice rossa sia qualcosa che inneggia il razzismo. Sicuramente puntualmente ogni tanto affiora il discorso Roberto Benigni e il suo legame con la città di Castiglione Fiorentino. Io rimango della mia idea, siamo orgogliosamente castiglionesi e di un castiglionese illustre come lui spesso e volentieri forse è mancata quella presenza che un po' da tutti sarebbe auspicata. È un premio Oscar, sono anni che tra l'altro facciamo iniziative sul cinema, Roberto Benigni a Castiglione Fiorentino ha le porte aperte.